Il campionato Under-17 Lega Pro di fronte a Ghezzo e Pontedega è il recupero di una partita che non si era disputata due settimane fa con impegno peraltro prestigioso da parte del Pontedega. Girardini finisce a terra ed è calcio di Grigori subito. Calcio di Grigori subito per Ghezzo dopo un minuto e trenta. È pronto il portiere Morgillo, fischia l'arbitro, a parte Ricci, sinistro, spiazzato Morgillo e c'è il vantaggio della Ghezzo dopo due minuti di gioco. Calcio di Grigori di Ricci, precisissimo a Casotera, alla destra del portiere del Pontedega per Ricci. Questo è il quattordicesimo gol in campionato, poi Ricci grava un controllo e poi il pallone subito per Girardini che se ne va sulla destra, lo attende Barra, ancora Girardini, palla per Ricci, palla di ritorno per Girardini, bellissima triangolazione, ancora per Ricci che la piazza e la palla va fuori, bellissima azione, bellissima azione veramente questa della Ghezzo. Una trama nello stretto tra Ricci e Girardini, la palla è tornata a Ricci dopo che i due avevano scambiato con eleganza. Cosignoli fuori per Agamini, ancora Ghezzo, Agamini, parte il cross, tutto solo Billi, stacco e traversa, traversa di Billi. Ghezzo vicinissimo, ancora al 2-0. L'abito autorizza la ripresa del gioco, mi è messa già battuta da Barra, la palla arriva in area di rigore, Ricci fermato, morra al volo in area di rigore. Ubirti che finisce addosso all'avversario e calcio di rigore. Calcio di rigore, qui l'abito ha letto forse giustamente perché Ubirti è andato prima lui su Pacini appena entrato. Scardigli contro Ubirti, va col destro e il Ponte d'Era pareggia. Pareggio del Ponte d'Era su calcio di rigore, Ghezzo aveva sbloccato dal dischetto e subisce dal dischetto il gol del Pari, come detto ancora in gol Scardigli che aveva già fatto gol con la Pistoiese e ancora prima con il Modena. Bene Riccetti, cross, la rovesciata tentata, la grandissima pagata di Ubirti su questa rovesciata di Pacini che aveva trovato una grandissima giocata. Bassini, vediamo Ricci se può partire, difende la palla, accede poi verso Artini, palla di ritorno per Ricci che può andare, Ricci in area, morra su di lui, Ricci fuori. Che occasione, che occasione, al trentanovesimo, all'ultimo minuto. Insieme al mister Alessandro Violetti, questo recupero di campionato 1-1 con il Ponte d'Era, allora direi un primo tempo un Ghezzo eccellente, no? Perché gli riusciva quasi tutto, abbiamo visto delle bellissime giocate, onestamente era quasi una gara perfetta. Poi piano piano il Ponte d'Era è venuto fuori, soprattutto dopo che ha trovato il pareggio l'Ghezzo ha perso un po' i certezzi. Sì, l'umiltà, io come dico sempre ragazzi, l'umiltà fa la differenza, perché l'umiltà ti porta a avere applicazione, a tenere distanze, a avere sacrificio, a lavorare per la squadra. Noi abbiamo fatto il primo quarto d'ora, 20 minuti, dove oggettivamente abbiamo fatto una qualità di calcio molto elevata. Fraseggi partendo da dietro, tutta la squadra che collaborava, distanze giuste, quindi anche nei momenti in cui perdevamo palla, comunque nella fase di riconquista eravamo sempre in superiorità numerica. Credo che abbiamo creato, non so, 4-5 palle gol limpidi, è una partita da portare sul 3-0 dopo 20 minuti. E questo spesso accade nei grandi, figuriamoci nei ragazzini. Nel momento in cui pensi di essere più bravo dell'avversario, che le cose che hai fatto sono frutto solo della tua bravura e non dell'applicazione, poi succede quello che è successo, che abbiamo perso un po' le distanze contro una squadra di qualità ottima, perché è una squadra ben messa in campo, una squadra con un'ottima individualità, una squadra che ha un'idea di gioco. È ovvio che se perdi quell'aggressività di andare alla riconquista della palla e quell'idea di sviluppare con più giocatori in fase di possesso, poi perdendo le distanze, regali spazi avversari dove gli altri hanno avuto abilità per crearci dei seri problemi. E' sempre difficile non valutare fin dove parte il demerito dell'una e il merito dell'altra. Io però analizzo che le distanze non erano più le stesse che tenevamo e quello è un punto dove noi dobbiamo crescere, perché poi invece quando riusciamo a lavorare da squadra dimostriamo contro Pontedera, che oggi è una di quelle che va a fare le finali, su cui noi qualche tempo fa avremmo fatto volentieri la corsa, penso che ce la possiamo giocare alla pari di più, anzi abbiamo attestato una crescita tra il generale d'andata e adesso proprio devastante, credo che sia anche piacevole, non solo per me da allenatore, ma anche per voi, anche per la gente che va a vivere, proprio un'idea porta avanti così. Sì, tutti i tocchi di prima, abbiamo visto tante bellissime azioni, no? E' quello che chiedi poi ai tuoi ragazzi, infatti ho sentito a un certo punto nel secondo tempo, gli hai detto, no, non riusciamo più a fare questo, no? Cosa è successo? Esatto, ma è proprio quello, perché ritorno, sono ripetitivo, però quando perdi le distanze di gioco, poi inevitabilmente diventa difficile, perché per un'azione manovrata c'è necessità che i spazi siano abbastanza ridotti, cioè il campion gioco ci può essere, ma deve essere finalizzato per andare ad un attacco dello spazio. E noi invece, perdendo le distanze, eravamo costretti a fare dei passaggi un pochino più lunghi, però sui passaggi lunghi puoi seguire per sviluppare, diventa difficile. Va bene così, va bene. Poi poteva comunque, c'è stata questa occasione finale. Credo che sì, anche l'occasione proprio per vincerla. Loro hanno cominciato a giocare un pochino più sulla palla lunga, perché comunque loro dovevano vincere per rimanere attaccati al gruppo di quelli che fanno le finali, quindi hanno perso un po' di equilibri. E noi su quegli equilibri che hanno perso, eravamo più cinici, abbiamo avuto tante situazioni, siamo arrivati alle conclusioni tante volte e potevamo, insomma, credo, ottenere anche qualcosa di più.